A me hai preso DiMira? Si Davide fai un sorriso Sgrulvision Entertainment Marcuccio fai un sorriso Marcuccio fai un sorriso Marcuccio Madonna Luciana Ma c'è brava se non si prende Oh però a me piacerebbe quella cosa di che la c'è Fai il Si Come sta stasera sera? Bene Benissimo Vediamo Luciana a parlare al telefono No 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 No